Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Oggi andremo a rispolverare il caro Vegito Blu, che grazie alla sua special con il Lok più l'anti-fusion potrebbe essere risalito in questo meta dominato da Gogeta Blu. Lo giocheremo nel solito fusion, dove farà una bellissima cum insieme a Vegito Free2Play, Lok entra a Vegito Blu, tira 5-6 strike senza sidestep e poi ultimate. Difficilmente un personaggio riesce a tankare tutto ciò. Comunque, solita line-up, gli equipaggiamenti di Vegito sono giusti. Detto questo, andiamo subito in PvP. Ok, siamo contro una line-up molto interessante a parer mio, giallo-giallo-blu GotKey con doppia Zenkei Bench per Trugeta e Gogeta Blu e una Zenkei Bench singola per Zamasu. Vediamo se Vegito Blu riuscirà per formare un minimo contro questa line-up. Allora, contro Gogeta, in teoria sì, abbiamo l'anti-fusion, sicuramente buone probabilità di one-combarlo. Beh, contro Zamasu, non lo so, i danni non mi fanno impazzire. Voglio questi già più carini, eh, decisamente più carini. Prima ha fatto più fatica. Adesso vediamo. Voglio assolutamente provare la combo con Vegito free-to-play. Perché secondo me, Vegito che locca, entra Vegito Blu, 6 strike con catenate più ultimate, poca roba, tanca una combo simile. Per esempio, adesso, Loc con Friggito. Entra il Vegitozzo e andiamo dritti, spediti. Guardate, questo è kill, ma ne sono certo. Devo usare l'ultimate, però è al 100% kill. Comunque, ragazzi, a me Vegito piace. A me piace, parlo del free-to-play. Non so se è il main della line-up, anche con Gogeta Blu Ultra, perché effettivamente ad affiancarlo ci stanno Vegito Yell e Ultra Gogeta Super Saiyan. Però, cavolo, sto Loc mi piace proprio. Ti consente quasi sempre una kill. Poi dipende anche da come lo sfrutti, però ha un potenziale meraviglioso. È qualche... Oh, me la scordo sempre, eh, sta unique. Se ci fate caso, anche negli scorsi video... Mi sa che vinco io, sì, special contro ultimate. Anche negli scorsi video, ehm... Cioè, non mi dimentichavo sempre della riduzione di chi sotto una percentuale di HP di Trunks e Vegeta. Unique è molto fastidiosa. Allora, qui, vabbè, il game è finito, rimane solo Zamasu, che si è anche curato, quindi ora ci metteremo un pochino ad ammazzarlo. Però non penso che abbia... Oddio, in realtà... Friggitora muore. Ho l'endurance. Però secondo me è damage output per ammazzarli. Eh, sì, ce li ha. Li ha, li ha. Siamo contro Zamasu. Ok, calmi perché non voglio perdere questo game. Faccio fatica. Voglio sfruttare il debuff sull'alta restoration di Vegito, che mette con le strike. Vedete che lui recupera zero? Perché se, ehm... In pratica gli togliamo le endurance con le prime strike di Vegito, lui nasce con un HP. Perché gli mettiamo il... Che è... Meno 100% di Alter Restoration, che si va a applicare anche alla sua endurance. E infatti, come avete visto, è rinato con un HP. Ha funzionato anche con Racing Rush. E quindi ce lo siamo tolti dalle scatole. GG. Ok, eccoci qua. Gogeta Blu Ultra, colui che volevi incontrare. Vi posso mostrare come gira contro questo personaggio. Fidatevi che ha dei danni interessanti contro Gogeta, eh, sempre per via dell'anti-fusion. Più che altro dovete sfruttare le special o, come vi ho fatto vedere prima, la combo con Vegito free-to-play. Lock entra Vegito. All in, in pratica, full strike più ultimate, vi portate nel 90% dei casi la kill a casa. Ok. Ma, tipo adesso, se facciamo così? Perfetto. Volevo semplicemente mostrarvi questa cosa qui. Perfetto. Non chiedevo altro. Ora possiamo... No, dai, non perdiamo. Racing Rush? No. Allora facciamo un attimo così. Ok. Ok. Ok, perfetto. GG. Attenzione, la rinascita del God Ki è un video simile. Volevo farlo, anche per chi io amo il God Ki. Gogeta, ti prego, mi esci prima che il tuo banner scala. Ti scongiuro. Sei un bel PG, esci mi nell'account. Comunque, Gogeta, Mui, Zamasu. È uscita anche la LBR per God Ki. Sto utilizzando al momento Zamasu, la setta Geta, perché è la migliore run-up che ho. Ok, girano bene, eh. Se volete usare questi tre LBR, ci vendete ugualmente buone vittorie, ripenso. No. Non voglio usare il lock di Zamasu perché tanto già so che tanca troppo. Quindi sarebbe un lock sprecato. Ecco, Zamasu forse è uno di quei pochi personaggi che può tancare la full combo di Vigito Blu. Cioè, guardate, di stracchio gli ho fatto il solletico. Se prende il Mui lo ammazzo sette volte. Aspettate che forse... Eh sì, eh sì, strike più special. Il Vigitozzo. Ne ha ancora da raccontare. Ne ha ancora da raccontare il caro Vigito. Allora, a te locco perché voglio ammazzare con Vigito Ultra. Vediamo se... No. Perché mi sono fatto prendere il PV adesso? Poteva essere un'occasione d'oro per ammazzare il Guggetozzo. Lock, color avvantaggio, mette anche tanta pressione questa cosa. Perché poi il lock non è che si applica come l'aumento di subcounter, che magari può essere counterata da un Zamasu, un Pan o una Pan che posso rientrare prima. No, il lock ti fa proprio stare appunto loccato, bloccato in quella situazione e non può uscire in nessun modo. Quindi mette anche tanta pressione queste cose in realtà. Ok, mi sono avvicinato perché avevo paura di un Racing Rush. Quindi magari per andare a vincere con l'Ultimate. Però ho rischiato in realtà, eh. Questa roba era rischiosa. Eeeh, mamma mia. Ma quanto siamo forti oggi. il Vegitozzo. Allora. Eh sì, questo schifoso mi rompe anche la sfera, me l'ho scordato. Però anche lui, tre strike è quasi morto, eh. Ci stavamo. Posso accettare metà a capire questa special? Posso accettarla? Vediamo se riusciamo a finire questa partita perché... Sì, ok. GG. Ok, movie con... Anzi, no, scusate, non è movie, è hybrid. Perché ci stanno Pan e Mirai più il Gogetozzo Ultra. Che, se non sbaglio, non era messo come leader, però. Era tipo doppiamente Zenkabanchato, ma non come leader. Quindi perde sicuramente qualcosa. Diamone conto. Qui già si sta prendendo danni abbastanza gustosi. Anche Mirai, però, sta prendendo bei danni. Mazza, sta performando bene il Vegito Blu, eh. Meglio delle mie aspettative. Anche perché qui ha un minimo supporto da parte di Frigito Free-to-Play, ovvero quando va sotto il 50% di HP, ma è un modesto 20% di danno. Quindi sì, è un supporto, ma abbastanza semplice. Basilare, niente eccezionale. Eppure, buoni danni. Controfusion fa belle cose. Abbiamo già visto un paio anche di kill grazie alle special move. E l'ultimate, come sempre, picchia malissimo. Mamma mia, perché tutti sti danni? Era colore a... a favore. E perde pure qualche ultrability qui dentro, ne sono certo. 998. Bravo, Chinello. Stingo la mano da solo. No, ok. Non mi è andato avanti. Non ho capito per quale motivo. Va bene. Non ho capito per quale motivo, ma facciamo così. Allora, lock su Mirai Gohan. No, boh, non mi interessa. Andiamo avanti di strike. Quasi pensato per un momento di ammazzarlo con Frigito, ma non ce l'avrei mai fatta. Così, invece, con Frigito, che lo fa rinascere con un HP, sempre che cazzo alle strike, che levano il 100% di Delta Restoration, l'abbiamo ucciso senza usare ultimate. Qui mi sono cagato sotto, l'ammetto. L'ha fatto... Quella pallina a Beta, ho detto, boh, ora mi tirano un racing rush, mi tirano una strike subito. Tirano un racing rush. Data male. L'abbiamo sprecato, però... Vabbè, fa niente. Abbiamo ucciso Mirai Gohan. La comba è andata a buon fine. No, caro, mi dispiace, ma non farò mai il panic swipe in questa situazione. che perché se perdo il Travegito, qui mi sa che perdo. Ma guarda, possiamo flottare per altri 4 anni così. Danziamo insieme. No, l'ho levato, mi sono... Ok, meglio, meglio, meglio. Non volevo rischiare. Mettiamo la verde. Eh, sì. Mi piace, mi piace tantissimo. Pan, mi sa che adesso ti ammazzo. Eh già, mi sa proprio che... Verrai purgata. Allora, tiro l'ultimate, però non l'ammazzo di ultimate. Magari ci prendiamo anche l'LF finale. Me la tengo per Gogeta. No, dai. Già pre-Gustavo l'LF. Allora niente, scartiamo. Boom. Mamma mia, che danno. Mettiamo Fregito. Quante special move ha in mano, scusa? Un miliardo? Anzi. Anzi che Fregito sta tankando così tanto. Eh, qui ci abbandona. Qui ci devo abbandonare. Ok, mi sa che l'ammazzo... Sì, sì. Prima che si prende il gauge sicura, bla bla bla. La finiamo così. Ottimo showcase di Vegito. GG. Sì, sì. Sì.